Resto l'opposizione, non farò come scritto sui giornali da stampella alla maggioranza di centro-sinistra, ma rivendico l'autonomia nella minoranza da convinto liberal-socialista, con dieci idee progettuali da proporre e da realizzare per il bene della città. Questo è il Pierluigi Propersi Pensiero, consigliere di Domani L'Aquila, già candidato sindaco senza molto successo, in una coalizione in cui c'era anche Forza Italia. Propersi, che si definisce architetto urbanista prestato alla politica, si dice poco appassionato ai posizionamenti pre-elettorali, come quelli dei tre consiglieri che hanno costituito il gruppo Noi con Salvini. In conferenza stampa si presenta affiancato da Daniele Toto, coordinatore nazionale del Partito Liberale Italiano, e Mauro Chilante, il coordinatore regionale. E nell'esporre la sua posizione, una porta al sindaco Massimo Cialente la lascia aperta. Squaderno infatti le sue proposte progettuali, il decalogo liberal-socialista, che va dall'infrastruttura di cui dotare l'Aquila a baricentro della macro-regione mediana, all'istituzione di un authority europeo per l'ambiente, passando per l'istituzione di una scuola di formazione per la pubblica amministrazione, la sperimentazione della guida autonoma sul modello della Google Car sull'autostrada 24. Su questo lascia intendere Propersi il massimo spirito di collaborazione, e guai a chiamarlo in ciuccio. Manca ancora un progetto di città, chiosa Propersi, che andava proposto nel 2012, quando si è cominciato a ragionare sul nuovo piano regolatore, e le scelte della ricostruzione non erano ancora state fatte. Il sindaco ha però detto in occasione del Consiglio Comunale sul bilancio di voler accogliere i contributi esterni nell'ultima fase della legislatura, e questa è una novità che accolgo con favore, conclude Propersi.